Buongiorno a tutti, in questo video tutorial vi presento la nuova interfaccia di SyncLink, Saima. Saima è un lago finlandese ed è la nuova interfaccia. La interfaccia precedente si chiama Rovesi ed era sempre un lago. In questo video esploreremo la barra degli strumenti che vediamo quando l'immagine è in primo piano e vi illustro come creare le cartelle e come gestirli. Questo per organizzare meglio i nostri contenuti e per poterli condividere con i nostri ragazzi nel momento in cui uno ha un account premium. Chi crea un nuovo account con SyncLink ha automaticamente questa nuova interfaccia. Allora, l'interfaccia è fatta di nostro contenuto. Adesso un attimino faccio la traduzione della pagina in italiano. MyContent, che una volta era MyMedia. Abbiamo le cartelle, abbiamo i nostri file e poi chi ha dei gruppi, chi ha un account premium qui, ha la sua organizzazione. Le collezioni per il momento non funzionano. Qui io posso, se sono uno studente, utilizzare il codice di invito per raggiungere un laboratorio, un corso, una cosa particolare che il mio docente vuole condividere con me oppure posso utilizzare il codice di invito per raggiungere proprio la classe del mio docente. Qui io ho tutte le impostazioni del mio account. Questo è importante. Ma la cosa più importante per noi, la prima cosa, è come creare un SyncLink e come funziona. Allora, io vi suggerisco a tutti di partire da un clone, quindi da un'immagine. SyncLink ve ne dà all'inizio 3. In questo caso qua, io ai miei studenti vado a dare questo. Quindi clicco Condivido e li vado a consegnare questo. È molto carino perché nella condivisione io ho più possibilità. Potrei darlo immediatamente tramite Classroom, questo SyncLink da clonare, oppure posso, scusate, condivido, copiare il link e perfine, se siamo con l'imm e si lavora con dei tablet, potrebbero anche scandalizzare il codice. Molto molto utile. Questa è una bella novità. Adesso qui noi andiamo, quindi facciamo che loro l'hanno ricevuto, lì appare e chi la riceve, la riceve in questo modo. Quindi il clone si apre con il link in questo modo. Adesso è importante di andarlo a clonare e si prende quest'icona, vedete che è proprio l'icona che indica coppia. Clicco. Attenzione. Il clone adesso non si apre automaticamente, ma lo troverò nella mia pagina, nei miei contenuti. Adesso ci vado. La prima cosa che è importante, secondo me, quando abbiamo un nuovo contenuto, una nuova cosa, è esplorare, diciamo, come funzionano questi contenuti. Adesso andiamo nell'editor. La cosa bella della coppia è che io potrei modificarlo. In questo momento non andiamo a modificare, ma andiamo a vedere come è fatto. Abbiamo tre tipi di funzioni. Il done è quando devo uscire, quando ho finito. I settings è, diciamo, l'immagine, lo sfondo principale e ho questo. Posso nello sfondo caricare un audio. Posso decidere di nascondere il logo di SyncLink e posso anche disabilitare. Voi vedete che in questo momento si illuminano, si muovono un po' l'icona e potrei anche disabilitare questa funzione. L'ultima, e anzi la prima funzione, è lo sfondo, diciamo, quando si crea un tag. È utile, magari, secondo il colore dell'immagine, il progetto che stiamo facendo, è molto carino che possiamo anche personalizzarlo. Possiamo perfine indicare il tipo di colore che vogliamo. Ora comincerò a farvi vedere piano piano le diverse funzioni. Quando si fa add tag, ne abbiamo quattro tipi di funzioni. In questa immagine trovate il CREAL TOUR qui. Questo è la condivisione di un link, è il primo, il testo si trova qui e l'incorporamento, ce ne sono diversi, si trova qui e qui e qui. Quindi, ecco, potete un po' esplorare qual è la mia idea. Adesso io vado a cliccare il primo, questo è con il link esterno tramite un tasto. Io qui ho caricato un'immagine. Attenzione, ne possiamo anche utilizzare di più. Non solo, vi ci tengo a dire che io posso anche caricare soltanto immagini e video e non è detto che io devo aggiungere un testo e una descrizione. Quindi io posso creare all'interno del mio sync link uno slideshow. Poi qui posso cambiare il testo Vai al film. Quindi magari diventa più... Lui all'inizio mette automaticamente il link. Lo posso anche soltanto mettere Vai. Ok? Qui in alto io posso cambiare l'icona. Normalmente io tendo a scegliere un'icona che indica il contenuto. In questo caso ho selezionato un film e voi vedete che si può anche fare selezionare diversi colori. Suggerisco però di non esagerare troppo con gli effetti, con i colori, perché allora aumentiamo un po' lo stress di chi vede il contenuto. Anche qui bisogna fare un'esperienza e di valutare di volta in volta che cosa andiamo a mettere. Adesso lo chiudo perché non andiamo a cambiare nulla. Quindi questa era la prima funzione. La seconda funzione è come aggiungere il testo. Attenzione che io ho aggiunto un tag e non serve. Il testo qui, vedete che quando io ci vado sopra, lui semplicemente mi indica. Questo è utile perché se abbiamo per esempio il corpo umano possiamo soltanto indicare le parti. Possiamo anche indicare le parti di una cosa, anche di un luogo in una lingua diversa. Possiamo tramite il testo anche dare delle piccole consegne per esempio come utilizzare questa immagine. Esplora è per esempio il numero 1 e nel numero 2 io incorporo un modulo di Google e alla fine dell'esplorazione o i ragazzi mi devono rispondere a alcune domande oppure mi devono semplicemente scrivere un commento. Andiamo alla terza funzione, l'embed. Il video, in questo caso di YouTube, vedete che viene incorporato nell'immagine, non si va fuori, non si apre una nuova finestra e l'embed in questo caso per link. L'embed però in alcuni casi è importante di selezionare il codice embed quindi di volta in volta questo bisogna a volte provare. Credo che per questo embed che è un libro interattivo qui c'è il codice, sempre il link quindi il libro si legge adesso all'interno della pagina però attenzione quando io comincio a visitarlo vedete che è tagliato e quindi potrebbe essere che io decido quando vedo questo invece di fare l'incorporamento nella pagina che decido per il link esterno. Quindi questo di volta in volta ognuno deve decidere che cosa è il meglio. Andiamo all'ultima funzione quindi li abbiamo visti tutti vi lascio anche nel video il link per questa immagine da poterlo esplorare e volendo anche clonare il tour. Allora il tour viene creato a partire di un altro sync link esistente quindi possiamo collegare diversi immagini collegarli uno all'altro è carino per fare un escape room ma anche collegare diverse lezioni non mi pare automaticamente ma se io clicco sopra lui mi apre tutte le cartelle quindi mi dà la possibilità delle mie cartelle quindi per questo che sai ma è molto funzionale perché posso ordinare tutti i miei contenuti e non è male questo. Attenzione però quando abbiamo creato la cartella non appare più negli altri contenuti. questi sono invece nei contenuti generali teniamo quella e cambiamo e si può immettere anche l'icona per mettere la condizione quindi io posso creare un gioco e potrei inserire qua la domanda e sotto la risposta è corretta poi opzionalmente posso creare anche la scelta multipla allora questo in realtà non voglio creare un nuovo tag mi voglio far visualizzare questa immagine che in realtà è un tour creato e così potete visualizzare come è stato creato. Ecco questo era l'esplorazione di un'immagine che io invito a tutti quanti adesso di clonare giocateci sopra e spero che questo video vi sia utile. Esplorate di volta in volta le varie funzioni quindi qui sopra attenzione perché qui si elimina per la condivisione adesso di questo link abbiamo questo l'abbiamo detto all'inizio ora rinominiamo l'immagine diamo un nuovo titolo importantissimo sempre di non dimenticare di dare il titolo si fa all'esterno dell'editor importante impostare la condivisione del link e del codice embed ne abbiamo quattro la prima è premium e gli altri tre sono per tutti quando abbiamo chiuso diciamo l'editor e il bar degli strumenti ritroviamo il nostro immagine in mezzo ai nostri contenuti i tre puntini a destra servono di nuovo per velocemente poter fare delle modifiche vi suggerisco di esplorarli con calma una volta che abbiamo capito come creare un sync link e che tipo di contenuti poter inserire per rendere interattivo il contenuto possiamo caricare il file i tipi di contenuti che possiamo rendere interattivi sono immagini immagini a 360 gradi in modo di creare una realtà virtuale oppure i video e anche i video a 360 gradi ed ecco siamo alla fine del tutorial più grande che ho mai fatto ma non sarà mai grande quanto il lago Xaima grazie per l'attenzione e alla prossima